Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicata iniziale virtù che volge lentamente verso la dirittura d'arrivo che non è proprio di cinema, non è neanche lontanissima, abbiamo ancora da trattare due vizi capitali che sono la Cidia e la Gola, chissà se riusciamo a trattarli insieme magari anche questa sera o ci vorranno due puntate per tre e poi però avremo un ampio capitolo dedicato alla virtù cardinale della temperanza perché la virtù della cardinale della temperanza è un discorso molto ampio, molto articolato perché quando pensiamo alla temperanza, noi pensiamo generalmente una temperante se mangia poco ma vedremo che non è esattamente così, nel senso che la temperanza è una meravigliosa virtù attraverso la quale vengono moderate una montagna di passioni disordinate, non solo la brama del cibo che certamente è uno degli oggetti della temperanza, la brama del cibo, la brama delle bevande, la brama dell'alcol, comunque piano piano arriviamo. Questa sera dobbiamo trattare di un vizio capitale un po' poco considerato generalmente che è la Cidia perché generalmente viene identificato questo vizio con la semplice pigrizia, quindi la Cidiosa è un pigro, quindi è uno che non ha voglia di lavorare, si croggiola, perde tempo diciamo così, no? Certamente la Cidia è anche questo, ma la caratteristica peculiare e propria di questo vizio non è la semplice pigrizia, quindi il perdere tempo, l'amore del riposo, eccessivo eccetera, ma la Cidia, gli orientali su questo sono stati molto più bravi di noi, i grandi padri, penso le cose che sulle varie tristezze scrisse il grande San Gregorio di Nissa, se non ricordo male, perché la Cidia è una forma di tristezza, sotto questo punto di vista somiglia un po' all'invidia, abbiamo visto che l'invidia in una delle sue componenti si rattrista per il bene altrui concepito come il male proprio e si rallegra per il male altrui concepito per il bene proprio. Ora, la Cidia è la tristezza, bruttissima cosa, che deriva dalla nausea dei beni spirituali per il travaglio corporale che li accompagna. Allora, l'acidioso non è semplicemente il pigro, ma è il pigro, il lento, lo svogliato nelle cose spirituali, per il travaglio corporale che li accompagna i beni spirituali. Non è che ci vuole un granché a capire il travaglio corporale, che ne so. Fare una penitenza è una cosa che comporta un sacrificio. Stare in preghiera comporta un sacrificio, ancora di più se per esempio qualche volta si prega in ginocchio. Partecipare ad una processione, tanto per fare qualche esempio, comporta un sacrificio. Partecipare ad un atto di culto, vissuto come Dio comanda, senza guardare sempre l'orologio, che non pochi a quanto pare hanno come criterio di scelta della messa, la messa più corta. Io sentirò dire delle cose raccapriccianti, nel senso di, forse è meglio non raccontarle, che non ci andiamo a guastare la serata, ma può un ministro di Dio avere come obiettivo il puntare a fare la messa il più corto possibile? Questo fa comprendere il segno di certi tempi, no? E molti fedeli tutti contenti, ho visto, ho detto la messa in venti minuti, che bello, così siamo tolti subito il pensiero. Ecco, questo è questo vizio che è capitale, no? Quindi, Sant'Ommaso definisce la Cidia, anzitutto come nausea, nausea, terribile, dei beni spirituali, cioè, mi viene il volto a stomaco, dice, no, non mi metta a pregare, per carità, no, guarda, tutto tranne che, non mi fa pregare, andrà a messa, no, 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 a messa proprio no, oppure anche il torpore dell'anima che trascura di intraprendere il bene, il torpore, il torpore che è un po' peggio della tiepidezza, si comincia con la tiepidezza, poi si va a finire nel torpore, perché il torpore è una situazione dove si è, è come una sorta di sabbia mobile, dove si è incastrati e inganasciati, non so come, e sembra impossibile venirne fuori, torpore dell'anima che trascura di intraprendere il bene, abbiamo visto, no, la Cidia, penso che possiamo già capire da questo qui, la Cidiosa è proprio il contrario del forte, no, il forte è un vulcano, una persona dinamica, pensiamo al magnanimo, al magnificente, sono quelli che si imbarcano in grandi imprese e hanno la tenacia, la forza, la costanza, la perseveranza di portarle a termine, grandi imprese per la gloria di Dio. Qui ci stiamo proprio all'opposto, proprio allo specularmente opposto. un nauseato dai beni spirituali è un'anima che sta nel torpore e trascura ad intraprendere il bene. Capiamo che cosa significa questo vizio? Questo vizio comporta una cosa terribile, che è il disprezzo dei doni di Dio e delle grazie di Dio. L'accidioso è proprio, è come dire, espresso in maniera esemplare da Gesù nel Vangelo, chi è l'accidioso? E' il servo, parabola dei talenti, parabola delle mine, che va a mettere il talento sotto la sabbia. Servo malvagio infingardo. Sappiamo che gli accidiosi si possono chiaramente assimilare facilmente agli ignavi, i famosi ignavi, il girone dantesco degli ignavi. Attenzione che gli accidiosi sembra che non facciano niente di male. Attenzione a quando ci giustifichiamo davanti a noi stessi e spesso anche davanti al prossimo, dicendo ma io che faccio di male? Ah, qui l'accidioso non è che fa di male, qui l'accidioso non fa tanto bene. Alcuno dovuto, alcuno che dovrebbe farlo, altro che potrebbe farlo, con molto profitto per sé e per il prossimo, e non lo fa. Il disprezzo dei doni di Dio, per esempio, il gravissimo peccato di ingratitudine, è da poco finito il mese del Sacro Cuore, no? Quanto Gesù lamentava l'ingratitudine degli uomini. Abbiamo visto, parlando della virtù cardinale della giustizia, che la gratitudine non è un optional. La gratitudine è un dovere di giustizia. Il nostro Signore Gesù Cristo è morto in croce per noi, ha versato fino all'ultima goccia di sangue. Cioè, ci ha messo oggettivamente sulle spalle un carico, non indifferente. Noi non possiamo rimanere indifferenti di una azione cosa. Noi abbiamo il dovere di essere grati, ma ti rendi conto? Ma Dio è diventato uomo per te, senza che tu neanche lo sapessi e glielo chiedessi. Ha pagato i peccati tuoi, fino all'ultima goccia di sangue. Si è speso, si è umiliato, cioè si è messo al di sotto di tutto di tutti, solo per te, si è inventato, ha fondato la Chiesa, si è inventato con la Messa il modo per farti giungere in ogni momento gli effetti di tutto quello che ha fatto per te, per farsi il tuo cibo, riposa nei tabernacoli, ti concede il perdono dei peccati con la penitenza, e tantissime altre cose. E tu che fai? Manco ci pensi. Domanda, questo sarà un peccato veniale o mortale? Domanda. Lo lascio alle coscienze, ma l'ingratitudine è una cosa orribile. E ripeto, una mancanza della virtù cardinale della giustizia. pensiamo tra gli ascoltatori, tra gli amici, che abbraccio tutti sempre ad uno a uno, grato al Signore per questi come dire, legami soprannaturali virtuali che si instaurano attraverso queste conversazioni. Non so chi di voi abbia sperimentato su di sé l'ingratitudine, cioè di aver fatto come si può nel nostro piccolo, quindi in maniera imperfetta, fallace, modesta, però qualche cosa di buono a qualcuno e averne ricevuto in cambio l'ingratitudine o peggio, peggio che l'ingratitudine, il rivoltarsi contro, il trasformarsi da amici a nemici, da, come dire, da supporters a detrattori, da amici a nemici, da persone fidate a traditori. Auguro a nessuno di poter vivere qualche cosa di questo genere, no? Chiaramente questo vizio capitale facilmente, ma non solo, attanaglia i temperamenti flemmatici, ma non solo, però, magari fosse esclusiva dei soliti flemmatici, io conosco persone sanguigne che sono acidiose fino all'inverosimile. Quindi, disprezzo di doni di Dio, grave peccato di ingratitudine, così ho risposto già alla domanda fatta prima, grave peccato di ingratitudine, ma anche una tristezza spossante che abbatte l'anima fino al punto di togliere la volontà di agire. Vuoi sapere se c'hai l'accidia? Guarda quanto sei triste. l'accidia san Gregorio Magno anche se non ricordo male era interscambiabile con il nome di tristezza, Tukur. L'accidioso è triste. Vogliamo fare un altro esempio evangelico tanto per capire, no? Chi è? Facile, facile. Pensiamo a uno triste. Chi è uno triste nel Vangelo? proprio detto esplicitamente che è triste, eh? Conosciamo un giovanotto che si chiama anonimamente il giovane ricco, no? Gesù gli fa quella grande proposta, lo chiama grandi cose, vai, parti! Proprio il gesto gretto, no? No. E come se n'è andato? Triste! State con tutti quanti i sordi che c'è, con tutti quanti i beni che c'hai, dentro la tua tristezza. Hai sputato sopra una vita meravigliosa che il Signore ti avrebbe donato. Io mi chiedo sempre come possa essere... Non solo mi chiedo, ma a volte quando ho constato, quando mi capita, ahimè, la sacerdote, di vedere qualche cosa del genere, mi proprio addoloro, d'accordo? Mi addoloro e al tempo stesso mi chiedo, ma come fanno? Ma come si fa? Guardate, amici miei, è lo spreco delle grazie di Dio. Guardate, quello spreco delle grazie di Dio è un delitto proprio, proprio, è un delitto a mio... Cioè, io lo percepisco come un delitto atroce. Sprecare le grazie di Dio, sprecare i doni di Dio, le grazie ordinarie, le grazie straordinarie, si possono sprecare le grazie straordinarie? Ha voglia a te che si possono sprecare. Ha voglia. Pure le grazie straordinarie. Ebbene, sì, pure le grazie straordinarie. Ma come sarà un'anima così? Si condanna a rimanere vita naturale durante triste. Ha voglia di andare a cercare palliativi, soddisfazioni, gratificazioni, surrogati. Buon divertimento. Ma quando si commette il delitto, perché è un delitto, è un crimine, di sprecare le grazie di Dio, di sprezzare i suoi doni, essere ingrati, non c'è altro che la tristezza. Guardate, questo è un vizio oggi, vi assicuro che è quasi impossibile sentire, confessare un vizio di questo genere. Né nella sua, come dire, dire, io sono accidioso, ma nemmeno in queste sue manifestazioni, cioè io ho disprezzato i doni di Dio, mi sono messo sotto i piedi le sue grazie. E succede, spesso. Io sono stato un ingrato, non merito nient'altro che l'inferno e dovrei essere sbattuto lontano dalla divina presenza per quello che ho fatto. Si sentono? Spero che qualche confratello abbia avuto modo di confrontarsi con queste cose, perché questi sono peccati da confessare in lacrime. Capiamo subito che il contrario dell'accidioso è colui che dà importanza alla vita interiore, alla spiritualità, gli dà il giusto peso. Dove stanno oggi questi? Dove stanno? Sono una minoranza assoluta. Tranno un pochino di miei piccoli eroi, tra i miei amati piccolissimi, noi siamo una insignificantissima porzioncina nell'ambito delle pecorelle del Signore. Però alcuni coraggiosi anche a distanza, quindi con tantissimo merito, io sono positivamente edificato e commosso, a volte insomma si sparano delle maratone di preghiera non indifferenti, io sono edificato, quest'anno abbiamo lanciato Le Ave Giuseppe in diretta streaming, Le Mille Ave Giuseppe solci in cuore di preghiera amici miei, quando io vedo la diretta che certamente verso la fine rimangono 25, 30 persone che stanno ancora collegate, stavano collegate dall'inizio, io rimango edificato, rimango commosso insomma, sti figlioli che pazienza, che coraggio, perché insomma stare anche a distanza, stare dietro un telefono o un computer per pregare insomma è ancora più più faticoso, ancora più significativo, ecco, però sono piccoli chiamiamoli fiorellini che portiamo al Signore Gesù, io vorrei tanto che avessimo sempre nel cuore in queste piccole cosette che la grazia ci consente magari di dare di specie per chi conoscere la Divina Volontà ci facciamo una bella fusione nella Divina Volontà e diciamo a Gesù guarda, ti portiamo tutta l'umanità a fare le mille di Giuseppe, dai, possiamo farlo, possiamo, quindi nella Divina Volontà possiamo farlo, per cercare di consolare un pochino il cuore di Gesù. Quindi l'acidioso è quello che trascurre di dare il giusto peso e la giusta importanza alla vita interiore, a tutto ciò che concerne la spiritualità, cose che sono e devono essere di capitale, anzi, meglio sarebbe dire di suprema importanza nella vita di ogni uomo. Io ho un'altra cosa che proprio non capirò mai, io questa cosa non la capisco, amici miei, fatemi una mail, fate le domande al termine della diretta, scrivete i commenti su YouTube o sui podcast, ma dico, ma come caspita è possibile, ma come si può non riflettere un pochino, come campa chi non pensa mai alla vita eterna? Chi vive con la sua mentalità misera, piccina e ristretta a questi quattro giorni che ci abbiamo sul pianeta Terra, vedendo tutti i santi giorni, cioè, non è un mistero, d'accordo? Che le persone muoiono, d'accordo? Che si parte, che non abbiamo una città stabile qua giù, ma come si fa a campare non pensando a queste cose, non ponendosi seriamente, non mettendosi a riflettere seriamente sul problema Dio? Perché questa, cioè, ma capiamo, ma è possibile che io dico che un essere umano non sia un minimo, insomma, ma è la vita tua, no? Ma tu capisci che se dopo la morte c'è qualche cosa che non finisce più, ma capisci la proporzione che c'è? L'eternità. e tu vorresti affrontare questa cosa con una leggerezza qualunquistica, vabbè, speriamo che c'è qualcosa, se c'è qualcosa tanto meglio, se non c'è niente pazienza, tutto qui. Come che se quel c'è qualcosa vorrebbe dire che tanto sicuramente se c'è qualcosa andiamo tutti quanti a finire a finire bene, andiamo tutti quanti a finire alla grande, quindi qualunque cosa ho fatto. E se non c'è niente almeno me so divertito, tutto qui. Io sono proprio veramente amici, ho passato il mezzo del cammino di nostra vita, mi accorgo che si passa il mezzo del cammino di nostra vita. e io tante cose non le proprio capisco. Starò a diventare stupido, ma non le proprio capisco. Non riesco a capirle. Queste e molte altre non riesco proprio a capire. Non voglio fare una puntata, vabbè, questa è la puntata sulla Cidia, quindi è un clima un po' così, però mi suonano spesso in mente le bellissime parole di un Salmo. C'è quel mare bellissimo, quel mare azzurrissimo, il mare più bello dei Caraibi, il mare delle Sacre Scritture, il mare dove adesso che tutti hanno voglia di andare al mare, ogni tanto qualche tuffetto dentro il mare delle Sacre Scritture lì sì che c'è un po' d'acqua fresca, acqua pura, acqua chiara, cantava un grande cantautore italiano e c'è un passo che dice un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Tante cose non si capiscono e tuttavia poi che succede? Succede che nel cuore di un sacerdote comincia a prospettarsi il pensiero anche perché è il nostro Signore che è la Madonna che in tante manifestazioni ce ne hanno parlato qui ci giochiamo le anime cioè le persone che vivono così sono in pericolo precipitare precipitare nella dannazione l'altro ieri è stato il 13 luglio il giorno delle grandi rivelazioni a Fatima ma il primo grande segreto era l'inferno certamente non senza motivo la Madonna in un'apparizione che sarebbe stata destinata ad essere una pietra miliare ed è ancora aperta Fatima come ci ricordò Benedetto XVI nel viaggio che fece quando era ancora Papa in carica non è un caso che la prima cosa che la Madonna ha fatto vedere è la visione dell'inferno vorrei tanto vedere chi ci crede ancora oggi e anche tra quelli che dovrebbero farlo vorrei tanto sapere chi ci crede ancora oggi che basta un peccato mortale non rimesso e di cui non ci si è pentiti evidentemente peccato mortale è quindi mortale con tutti i requisiti quindi piena avvertenza deliberato consenso e materia grave per andare dei ritiriti all'inferno vorrei tanto sapere chi ci crede ma speriamo in molti ma speriamo l'accidioso non prega mai o quasi mai oppure se prega lo fa biascicando qualche preghiera in modo annoiato o distratto cioè quelle poche volte che prega sembra che sta a fare un favore al nostro domine Dio quelle poche volte che prega biascicando e attenzione non è una preghiera è un biascicamento trascura regolarmente i sacramenti ma io mi chiedo sempre no ma io dico ma come fa a campare la gente senza la messa senza l'eucaristia io non non lo capisco se un giorno il Signore per qualche suo misterioso disegno dovesse chiedermi un sacrificio più grande ma la rinuncia una cosa di questo qui penso che sia uno dei sacrifici in assoluto più grandi sono tutti quanti in paura di ammalarsi e di morire adesso io ho tanta tanta paura la sofferenza più grande non sarebbe certamente né ammalarsi né tanto o meno morire anzi la seconda proprio zero ma un giorno senza la messa e senza l'eucaristia è molto peggio che un giorno in cui non sorgesse il sole o un giorno in cui non si mangia chi di noi se ti dicono oggi bisogna scegliere o la messa e la comunione o si mangia tu che scegli così si capiamo subito se siamo lontani dalla dalla cilia non si mangia oggi non si mangia o l'uno o l'altro se mangi niente mese comunione se mese comunione non si mangia che facciamo? ma c'è Dio si trascura regolarmente i sacramenti come fa a campare come fa un battezzato un figlio di Dio a campare ma che razza di vita fa io mi chiedo sempre ma come campo una persona senza Dio ma è l'orrore assoluto ma che razza di vita è che fa che campa fa ma che pensa come passa il tempo l'accidio solito trascura regolarmente sti sacramenti oppure di celebre in maniera estremamente superficiale quando non sacrilega perché guardate che anche tra quelli che frequentano io purtroppo quando uno è un pochino attento e sensibile è destinato è candidato alla sofferenza perpetua io ne posso vedere certe scene che ho sempre visto certo quando uno sta tanti anni in una parrocchia al termine qualche piccolo barlume di luce lo vede perché dagli oggi e dagli domani qualcosa a qualcuno però resta la maggioranza no ma come si fa a vedere scene capite certe scene i modi di accostarsi oggi alla comunione scandalosi di comportarsi dopo averla ricevuta ma io mi continuo a chiedere ma come fa una persona a uscissene con la bocca che c'è ancora il sapore dell'ostia sulla lingua così come se fosse presa una caramella questi per me sono sempre grandissimi misteri altri misteri però anche fonti di grande sofferenza di grande dolore perché di così certamente il cuore noi non lo possiamo vedere quindi poi speriamo se io spero sempre d'accordo sapete che ho detto altre volte per stemperare un po' ci sono due versioni di proverbi sulla speranza una è bello l'altra è brutto la speranza è l'ultima a morire è bello no o la frase che disse Aragon nel Signore degli Anelli più di una volta c'è sempre speranza e questo dobbiamo sempre ricordare però c'è anche un proverbio sarcastico sulla speranza cioè che sono i casi di speranza evane cioè che chi di speranza vive disperato muore no quindi io spero sempre ma chi lo sa che c'è sta dentro quel cuore può darsi che non si rende conto può darsi che non lo sa il Signore sarà indulgente sarà buono speriamo no però gli spettacoli non sono proprio tanto edificanti l'accidioso non si cura minimamente di crescere nella conoscenza di Dio sicuramente non trascorre tempo ad ascoltare le catechesi dei poveri preti assolutamente non impiega tempo risorse ed energie per una buona formazione nella fede nella morale salvo poi che la vita va a rotoli e anche questa è una cosa che vedo in continuazione no vedo e ascolto perché è successo anche ieri durante la diretta del del Rosario su Twitter con le domande conclusive no al termine cioè che cosa succede in tantissime vite cioè la gente dimentica oltre che tante altre cose anche la la sapienza popolare no mia madre mi diceva sempre che quello che si semina si raccoglie che quello che si fa si ritrova quando una persona arrivata ad un certo punto della vita si ferma e capisce che sta andando tutto a rotoli è chiaro che poi piange si lamenta si dispera chiede spiegazioni chiede aiuto tutte cose comprensibili ma a me non succede cioè è capitato rarissime volte che anche se non lo posso dire o quantomeno non in termini troppo chiari cioè di pensare ma dico ma ma con questi antecedenti ma con una vita così condotta ma che cosa ti aspettavi che ti aspettavi cosa io sto maturando guardate amici veramente stasera sto un pochino parlando un po' a cuore che la sconsideratezza è una delle cose più pericolose e più gravi la sconsideratezza quanti matrimoni che non avrebbero dovuto mai essere celebrati mai per mancanza per mancanza di considerazione per mancanza di ponderazione per mancanza di discernimento di preghiera di mettersi davanti al Signore ma il Signore ma il Signore se lo fa capire se è una cosa che stiamo facendo a sua volontà oppure no basta che tu lo interpelli basta che tu ti metti in condizione di poterlo ascoltare certo che tu lo fa capire sempre lo fa capire perché lui sa che la sua volontà era la nostra vita ma è immaginabile che gli oli miei carichi anche una persona che vuole sapere quello che Dio vuole veramente come diceva mia madre che cerca lavoro e prega a Dio di non trovarlo ma Dio non gliela manifesta ma non è credibile una cosa di questo genere o no? l'acidioso chiudiamo il cerchio peraltro oltre che non fare tutte queste cose quindi non impiega ovviamente tempo risorse dell'energia per una buona formazione nella fede e nella morale che significa fare un autotreno di peccati gravissimi e mortali che anche se come diceva non saranno imputabili al 100% perché non essendo formato non ha la piena avvertenza quindi non si rende perfettamente conto ma attenzione non è che se tu non ti rendi perfettamente conto del peccato che fai non succede niente perché tutto il male del peccato ti ricade tutto addosso comunque a questo non te lo questo non te lo risparmia nessuno cioè la non consapevolezza piena del peccato che dipende da un difetto di formazione colpevole quando dipende da Cilia l'unica cosa che può comportare quando è colpevole poco però quando è incolpevole abbastanza è una diminuzione di responsabilità davanti a Dio del male che hai fatto ma attenzione il male rimane sempre male cioè se una persona ha rapporti prematrimoniali ci perdoni l'esempio esplicito la marea di monnezza di fango e di male generata da questa cosa è un fatto oggettivo che te la tieni punta e basta e una volta che l'hai generata a smaltirlo ci devi pensare tu poi non te lo smaltisce nessuno a posto tuo se ti confessi in parte i meriti di Gesù che si comunicano attraverso il sacramento in parte ti ripuliscono ma in parte non del tutto mai ecco perché il sacramento termina sempre con per penitenza fai questo per ricordarti che tutta quella montagna di male Dio ti rimette la colpa ti rimette il disprezzo della sua legge ti rimette l'offesa che gli hai fatto il dispiacere che gli hai dato peccando ma le conseguenze te ne fai carico tu non del tutto ma in buona parte sì l'acidioso quindi non contento disprezza ridicolizza tacciandoli di bigotteria o fanatismo tutti coloro che vede intrisi di spirito di orazione di vera fede di carità operosa di sincera devozione eccetera eccetera tabula rasa e qui varia un altro proverbio popolare stasera siamo intrisi di saggezza popolare che ride bene chi ride ultimo questo è un bel proverbio perché questi gli acidiosi fanno anche parte di quella categoria di persone di cui si parla nel salmo 1 felice l'uomo che non siede che non segue il consiglio degli empi non induce nella vita dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti in ebraico più che stolti sono quelli che si fanno beffe proprio quello atteggiamento il beffardo quello che si fa beffe quello che sghignazza che deride che ridicolizza l'uomo pio buon divertimento ridicolizza sbeffeggia qui vale ride bene chi ride ultimo ci sarà un giorno in cui non c'era più niente da ridere ridi ridi finché puoi ridi poi ci sarà un giorno che non ridi più perché non c'è niente da ridere ora secondo il dottore Angelico questa brutta cosa che si chiama l'accidia ecco speriamo che ci è venuto un po' di di repulsione verso questo bruttissimo vizio ha sei figlie sei è sempre un numero la prima è la disperazione attenzione però qui disperazione non si intende per esempio la disperazione della salvezza peccato contro lo spirito santo nel senso che uno si dispera di non poter essere salvato o perdonato perché all'acidio non gli importa niente di essere salvato o perdonato d'accordo non pensa proprio non ci pensa proprio ma la disperazione nel senso che ha abbandonato definitivamente la speranza e la speranza ricordiamo ecco è la virtù che ci connette che ci spinge a tendere verso il nostro fine ultimo che è la beatitudine oh ma all'acidio non gli importa niente perché è acidioso proprio perché non ci pensa e l'acidioso evidentemente come si dice il proverbio popolare lozio è padre dei vizi l'acidioso sicuramente i vizi specialmente i vizi carnali quindi la lussuria e la gola potete stare matematicamente sicuri matematico proprio che l'acidioso è un lussurioso di prima categoria è un goloso di prima categoria 100% perché non avendo niente di importante per il cielo si avvoltola come una scrofa dice San Pietro dentro i lordi piaceri di questa povera terra lordandosi come diceva padre Pio sapete come diceva padre Pio quando gli confessavano i peccati dei vizi dell'impurità non lordatevi diceva col suo bel con il suo bel vocione stentorio non lordatevi quindi la disperazione e quelli che godono dei beni di questo mondo sono dei disperati amici guardatevi un pochino intorno guardate con occhi sapienti anche le grandi stelle chiamiamole così poveracci che fanno una pena proprio fanno piangere fanno stelle del mondo dello spettacolo del mondo della musica del mondo dello sport salvorà le eccezioni che ci sono dovunque di bellissime persone ma certi esemplari ultra osannati ultra lodati ultra decantati ultra famosi ultra come dire idolatrati sono proprio dei piccolissimi esseri da cui traspare evidentemente dietro la la maschera dell'apparente gaudenza proprio la più assoluta disperazione che peraltro e mi riferisco al mondo della musica la esternano scrivendo dei testi che sono innia la disperazione intesa in questo senso la morte di queste persone sarà una cosa orribile ovviamente se non si pentono e quello che viene dopo peggio ancora la seconda figlia è la pusillanimità o viltà dice Sant'Omaso anche qui anche in questo caso non secondo la comune e normale accezione no? cioè il pusillanime e il vile proprio l'essere spreggevole io proprio guardate ecco per come sono fatto io il pusillanime e il vile sono proprio l'emblema di ciò che è degno di un sovrano proprio e assoluto disprezzo la pusillanimità e la viltà proprio c'è proprio una un'idiosincrasia proprio una una detestazione somma ora però qui non si intende anche in questa accezione pusillanimità o viltà in questo senso ordinario e comune ma anche qui bisogna calarlo dentro il contesto del vizio cioè l'acidioso è vile e pusillanime perché? perché provoca una grande repulsione prova una grande repulsione non provoca verso tutti quei mezzi ardui che consentono il raggiungimento del fine ultimo quindi in che senso è pusillanimità o vile nel senso che manifesta una totale mancanza di intraprendenza e coraggio verso quelle cose che servono a portarci all'unione con Dio l'ascesi la preghiera la penitenza o chi è affetto da questo vizio a borre irresistibilmente e refrenabilmente tutte quante queste cose le considera follia e quindi in relazione a questi atti è un vile e un pusillanime perché è un fifone c'ha paura c'ha paura di mettersi un po' a pregare c'ha paura di mettersi a fare un po' di penitenza a fare un po' un po' di esercizi ascetici che ci fanno sempre molto bene terza figlia della Cilia il torpore relativo ai precetti lo chiama San Tommaso che significa significa che la legge di Dio e di precetti gravi della nuova legge significa torpore proprio non li calcola proprio e quindi li 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 trasgredisce e li disprezza con estrema facilità e conseguentemente questo comporta l'abbandono anche dei mezzi comuni e obbligatori di santificazione anche minimi cioè stare tranquilli che l'accidioso per esempio il progetto pasquale cioè la confessione annuale alla comunione almeno a Pasqua ma sicuramente non lo serve poi ci abbiamo l'oziosità e la sonnolenza l'accidioso è ozioso è anche ozioso questo l'abbiamo visto l'abbiamo predetto e dorme troppo vedremo quando parleremo della temperanza non si può mangiare troppo non si può bere troppo ma non si può nemmeno dormire troppo padre Pio diceva dormire è tempo perso e diceva molto bene avremo modo di di parlarne vedendo anche dei numeri perché ci sono anche dei numeri e noi dobbiamo pensarci a quante ore dedichiamo al sonno quante ore di sonno ci prendiamo più del necessario e anche qui a che vogliamo aspirare perché poi sotto certi limiti non bisogna scendere a meno che non ci sia un dono particolare dell'altissimo però un po' di mortificazione anche nel sonno male non fa ricordiamo sempre che Lozio è il padre dei vizi ora ulteriore figlia della Cidia il rancore anche qui di nuovo non un rancore generico sapete con chi sono rancorosi gli acidiosi quali sono i destinatari del loro rancore il loro rancore quindi che attirano l'antipatia chiunque promuova in qualche modo il bene spirituale sicuramente stimolerà atteggiamenti rancorosi rancorosi nell'acidioso la quinta figlia santo ommaso la chiama la malizia ma anche in questo caso non è la malizia nel senso comunemente inteso mamma mia ma anche in questo caso no ma anche in questo caso ma è da intendersi con quell'accezione a quel significato estremamente peculiare specifico tecnico in relazione a questo vizio consistente nella detestazione dei beni spirituali cioè l'acidioso non detesta il peccato che è l'unica cosa detestabile ma detesta i beni spirituali o sia una volontà male orientata che disprezza ciò che è sommamente desiderabile cioè beni spirituali e desidera ciò che è sommamente detestabile cioè i beni di questo mondo San Paolo plasticamente sintetizza questa cosa dicendo la carne ha desideri contrario allo spirito e lo spirito ha desideri contrario alla carne queste cose si oppongono a vicenda o stai da una parte o stai dall'altra o infine l'acidioso ha un'altra figlia brutta figlia che è la divagazione della mente su cose illecite allora dobbiamo stare a fare molta attenzione a quello che pensiamo noi non possiamo pensare qualunque cosa così con il fatto che è un pensiero per esempio la mente dell'acidioso è schiava della curiosità si impiccia delle cose altrui in tante circostanze ho avuto modo di dire l'impicciarsi dei fatti altrui fare domande dirette cioè non è certamente cosa da santi qui facciano attenzione le mie care amiche femminucce insomma perché queste queste fenomenologie sono generalmente un po' più accentuate al femminile anche se mica tanto vero perché sono certi maschi che sono pettegoli peggio delle gommari e mi si permetta di dire forse a volte anche in ambienti diciamo così a me familiari dove una certa gravita su una certa compostezza un certo stile anche no? di una grande riservatezza insomma quindi un dovrebbe essere ordinario qualificante no? di un ministro di Dio di un uomo di Dio o di una donna di Dio domande indiscrete l'acidioso generalmente è un pettegole un ciarliero e così cade facilmente e miseramente nella maldicenza nella detrazione e nella mormorazione classici peccati generalmente veniali ma che fanno tanto danno all'anima e tanto danno al prossimo specialmente quando poi ricadono su chi non dovrebbero ricadere l'acidioso generalmente cade nella eccessiva verbosità e qui contraviene a due massime una evangelica di ogni parola inutile sarà chiesto conto agli uomini al giorno del giudizio e un'altra viene da Santa Teresa d'Avila che peraltro cita a riguardo i libri sapienziali nel molto parlare non manca mai il peccato l'acidioso è un verboso diventa logorroico e parla sovente a vanvera se volete riconoscere l'acidioso dalla spia di certe cose avete visto le persone che si agitano quelle che stanno sedute e cominciano a meccanicamente a fare tun 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 con 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 la gamba no? ecco sono spie queste qui spie di acidia perché l'acidioso non trova pace e perché non trova pace? ce lo dice Sant'Agostino perché non trova pace e ricordate quella bellissima espressione delle confessioni tu ci hai fatti per te e l'anima nostra non trova pace fino a quando non riposa in te ma l'acidioso in Dio non ci riposa non ci vuole riposare e quindi non starà mai in pace con tutti i suoi ozzi con tutti i suoi sonni dice ma come non sta in pace e chi gliela guasta magna beve dorme fa niente dalla mattina alla sera potendo farlo chi sta più in pace di lui? falso non trova pace manco quando dorme l'acidioso l'acidioso che ha tolto Dio dall'orizzonte della propria esistenza e dei propri pensieri è condannato bruttissima cosa a perpetua tristezza e inquietudine e questo fino a quando non tornerà sui suoi passi non deciderà di restituire allo spirito il posto che merita cioè il primo smettendo di cercare la felicità nelle cose piccine povere piccole effimere di questo mondo e tornando a cercare Dio la sua volontà i suoi beni e la sua legge come le cose più importanti e che danno un inizio di felicità già in questo mondo questo racidioso fino a quando rimane tale non lo sa così evidentemente non sia per nessuno di noi avevo programmi ambiziosi perché stasera volevo finire i vizi capitali almeno la cd abbiamo finita ma alla cura dovremmo riservare una puntata a parte Dio vi benedica a tutti i amici alla prossima che il Signore possa benedire qualunque cosa di buono si fosse degnato di donarci attraverso questa piccola condivisione Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga di